Un masterplan riveduto e corretto più e più volte che ogni volta ha sottratto risorse a capitoli fondamentali per la regione Abruzzo. L'attacco arriva dai consiglieri regionali di centrodestra che carte alla mano hanno prodotto le diverse pianificazioni della giunta regionale destinando fondi per interventi strategici quali dissesto idrogeologico, potenziamento del sistema di depurazione e collettamenti fognari con una cifra che prevede per l'anno 2016-2017 l'impiego di 28 milioni di euro ma secondo i consiglieri il rischio è quello di trovarsi in tutt'altra situazione. Già tra la delibera del 31 dicembre e l'ultima del 19 aprile il fondo per il dissesto idrogeologico che è la più grande tragedia che incombe sulla nostra regione cambia dai 63 milioni di previsione a 40 e dai 9 milioni puntuali di stanziamento per il biennio 2016-2017 a 2. La regione Abruzzo preferisce finanziare opere spot irrealizzabili solo per mantenere insieme la propria maggioranza sgangherata. Seconda correzione, mancano i finanziamenti come abbiamo denunciato anche in Consiglio Comunale a Pescara per mettere in depurazione le 400 fosse IMOF che scaricano senza depurazione nel mare. Mettere in discussione opere infrastrutturali fondamentali per la regione fuori discussione spiega Lorenzo Sospiri che annuncia già battaglia in Consiglio alla luce dell'introduzione di capitoli di spesa che non hanno alcuna priorità rispetto ai temi caldi che coinvolgono territorio e cittadinanza. E' una priorità la balneabilità del mare? Evidentemente è inutile fare interventi sul turismo se poi la gente sa che il mare è inquinato. Allora invece che finanziare sciocchezze, finanziamo la messa in depurazione di tutte le fosse IMOF, finanziamo il distorsio istituto geologico e corrigiamo per bene il masterplan, non solo per problemi politici di tenuta della maggioranza.